voglio raccontarvi la storia di due ragazzi di ron di valdoppiadene si chiamavano luigi boschiero classe 1924 e antonio brunelli classe 1923 essi furono fucilati dai fascisti il 3 ottobre del 1944 vediamo un po qual era quale fu la loro esistenza partigiana perlomeno nella vita civile brunelli faceva il conduttore di caldaie a vapore quindi lavorava nelle ferrovie invece boschieri boschiero faceva il falegname e entrambi quei ragazzi quando era giunto l'8 settembre il momento dell'armistizio quando avevano cominciato ad uscire i minacciosi bandi del generale rodolfo graziani con i quali venivano richiamate le classi del 1923 24 e 25 e si era giunti con il passare del tempo anche a minacciare di morte coloro che non si fossero presentati in base a questi bandi molti giovani tra parentesi per questa ragione finirono davanti a un pelotone di esecuzione ebbene boschiero e brunelli che in un primo tempo si erano semplicemente tenuti nascosti decisero di andare salire in montagna e di unirsi alla brigata mazzini la brigata mazzini che era attestata nelle montagne a nord di valdoppiadene il il paese di valdoppiadene in quel periodo era dominato da un corpo fascista della guardia nazionale repubblicana la cosiddetta milizia confinaria erano degli uomini ai cui capo c'era il maggiore mario migliorati classe 1900 originario di roma il quale era un esperto in operazioni di spionaggio di fatti a partire dal dicembre del 43 era stato proprio migliorati a cercare in tutti i modi di individuare o addirittura di uccidere toni adami il noto partigiano toni adami il quale era un comandante di un gruppo di dissidenti un gruppo di partigiani che poi si era fuso con la brigata mazzini di cui egli era diventato il commissario migliorati lo aveva cercato a lungo aveva mandato delle spie aveva mandato perfino in montagna un sicario con l'incarico di ucciderlo però diciamo queste operazioni non avevano avuto alcun esito toni adami non era stato mai individuato ebbene quando migliorati che operava l'attreviso con le sue spie venne trasferito nel mese di giugno maggio giugno venne trasferito a valdorviadene cominciò a compiere azioni di rastrellamento queste azioni erano mirate alla cattura dei renitenti e alla cattura dei partigiani o di patrioti di chi le aiutava ma si concludevano in genere con delle vere e proprie razzie cioè quando i fascisti arrivavano nella casa di qualcuno che era o parente o comunque sospettato di essere in rapporto con i partigiani essi provvedevano a portar via tutto quello che potevano chiamavano sequestri in realtà erano delle razzie erano delle rapine e venivano portati via gli animali cortile l'abbigliamento le vettovaglie soprattutto e quello che avanzava nella distribuzione perché poi queste cose vengono distribuite tra i militi veniva venduto venduto all'incanto e dopodiché il ricavato veniva suddiviso tra i militi stessi fu in quel periodo per esempio che furono catturati anche alcuni parenti di partigiani il caso più eclatante fu quello di angelo vidori quale ne aveva tre di figli con con i partigiani egli fu arrestato il 4 agosto proprio da migliorati e fu portato nella casa del fascio di valdobbiate nel primo piano di un edificio alla cui base c'era il caffè vittoria in quella stanza c'erano il capitano migliorati il maresciallo pochiesa che era il braccio destro di migliorati e un terzo che era terzio buratto di cornuda che era un diciamo un ufficiale della brigata nera l'uomo fu torturato a lungo bastonato picchiato volevano sapere da lui dove fossero i suoi figli o comunque le notizie che gli conosceva sui partigiani arrivarono addirittura a torturarlo pungendolo nelle parti delicate del corpo con degli spilli quando si resero conto di non poter fare nulla lo chiusero in un sacco lo bastonarono e lo trascinarono chiuso nel sacco lungo le scale dal primo piano fino al dianterreno e sempre fuori in piazza lo portarono in questo sacco lo trascinarono verso le carceri e lo spettacolo fu così brutale così violento che un vicino di casa uno capitava vicino alla casa del flash ed era pure amico di angelo vidori si chiamava silvio baratto il cui figlio era ruggiero era anche gli un renitente nel vedere questa scena di una violenza terrificante rimase talmente scosso che morì di crepacuore un altro un'altra vittima un altro genitore di renitenti che fu preso dai dalla milizia confinaria si chiamava francesco covello costui aveva il figlio aldo che era anche amico di antonio brunelli era stato alpino assieme a tono e brunelli ebbene poiché non non i fascisti non riuscivano a trovarlo il 20 agosto catturarono il padre catturarono francesco covello e lo caricarono su un'autocorriera assieme ad altri catturati perché venissero trasportati a tradiso e la alla caserma tommaso salsa sottoposti a prigionia e interrogatori lungo la strada dopo la partenza i partigiani cercarono di fermare quell'autocorriera per liberare quelli gli ostaggi purtroppo ne seguì uno scontro a fuoco e un proiettile perso uccise il povero francesco covello le cose peggiori avvennero però per mano sempre della confinaria in particolare di pochiesa del maresciallo pochiesa che come prima diceva ora il braccio destro di migliorati ebbene costui era chiamato copa omeni pensate che aveva 19 anni era originario di come dico superiore del bellunese e però aveva già questa fama perché perché l'8 aprile precedente 1944 era arrivato assieme a due camerati a colbertaldo di vidoro era giorno di mercato aveva visto un giovane che allora arrivo si era allontanato in fretta si era messo a correre il copa omeni pochiesa non esitò prese il fucile e cominciò a sparare in mezzo alla folle indifferente la presenza di di tanta gente intorno e uccise quel povero ragazzo si trattava di un renitente giuseppe balletto classe 1923 che era sfollato lì da milano pochiesa si fece poi notare il 2 maggio successivo quando guidò un'operazione in montagna contro i partigiani nella zona di marieck in quella circostanza oltre i militi confinari c'erano anche i cosiddetti romani che erano degli impiegati della confederazione nazionale fascista dei lavoratori dell'agricoltura che aveva sede a valdobbiadene costoro facevano di base gli impiegati ma quando serviva uscivano il rastrellamento partecipavano alle azioni dei fascisti armati diciamo in quella circostanza il gruppo guidato da pochiesa si imbatté nella zona di marieck si imbatte in un gruppo partigiano della brigata mazzini che rientrava una cosiddetta azione economica cioè erano andati a trovare cercare dei viveri per il loro reparto ne seguì uno scontro a fuoco e caddero due fascisti da una parte e dall'altra rimase a terra ferito gemiliano ferrara nome di battaglia loris classe 1923 originario di modena che cosa successe successe che i partigiani vedendosi soverchiati dal numero eccessivo di nemici secondo le regole della guerriglia decisero di ritirarsi purtroppo non poterono portare con sé il ferito i fascisti a quel punto raggiunsero il povero geminiana ferito e per vendicare i loro camerati caduti gli spararono addosso un colpo a testa di quelli che erano tantina dopodiché presero quel corpo crivellato e lo portarono a bando biadene esponendolo in piazza naturalmente a tutto questo corrispondeva un'azione inversa e contraria da parte dei partigiani i quali operavano dei sabotaggi lungo le vie di comunicazione le strade ferrate oppure le vie proprio di provinciali le strade insomma oppure attaccavano quelli che erano le infrastrutture militari repubblicane o ancora se c'era la possibilità uccidevano qualcuno dei maggiorenti fascisti fu questo il caso di amerino cavallin quale era segretario del fascio di bidor 27 maggio 44 fu sorpreso dalle parti di bigolino da un gruppo di partigiani e ucciso faccio notare che la ventesima brigata nera di treviso fu intitolata a amerino cavallin per ricordarlo e continuare a celebrarlo ma veniamo a boschiero e brunelli il contesto va dal 2 al 4 di agosto nella zona tra fontane e pianezze i fascisti assieme ai tedeschi alle ss fecero un rastrellamento un ampio rastrellamento all'operazione partecipò anche un reparto di brigata nere che era comandato dal maggiore attilio guerra attilio guerra che era originario il santurbano di padova classe 1895 e nell'ambito della brigata nera aveva il ruolo di ispettore tuttavia non disdegnava all'occasione di partecipare alle operazioni dei militari che vedevano da lui proprio in quel giorno il giorno in quei giorni un partigiano un ragazzo uno studente in ingegneria che abitava sempre dalle parti di ron andò a far visita a boschiero e brunelli dicendo loro che era necessario che si portassero una lettera a un partigiano in montagna a un certo giro merotto e anche con l'occasione che portassero due bombe a mano che come armi avrebbero potuto servire probabilmente i tre quando decisero questo non sapevano che in alta montagna si stava svolgendo un rastrellamento fatto sta che boschiero e brunelli accettarono di andare in montagna e il 3 agosto alle 5 della mattina partirono da ron per raggiungere per raggiungere i partigiani tuttavia arrivati in località cargador si imbatterono in un gruppo di confinari non si crede che sia stato casuale questo è molto probabile che qualche delatore abbia segnalato la loro partenza comunque sia andata i due ragazzi furono portati a valdobbiadene e interrogati con i soliti metodi addosso loro furono trovati sia i due furono portate le due le due bombe e una quella lettera che il cui contenuto rivelò esistere un rapporto tra i partigiani e altri due abitanti di ron ovvero sia luigi forbice classe 1894 di enna padre di quattro figli e antonio piccolo tetto nando il quale faceva il viaggiatore di commercio ed era originario però di ron di valdobbiadene la particolarità era che questi due sospettati di tradimento sulla base di quella lettera erano entrambi iscritti al fascio repubblicano questo non impedì comunque che succedesse quello che poi avvenne ovvero sia il giorno 4 di agosto i fascisti avendo individuato ben quattro persone che nella frazione di ron di valdobbiadene operavano come partigiani o come fiancheggiatori dei partigiani arrivarono in paese e fecero e fecero una una un invasero il paese entrarono nelle case portarono fuori tutto quanto quello che poteva essere razziato caricarono perfino avevano portato due carri e su di essi misero tutta la roba che portavano via ricordo in particolare che fu presa una pelliccia da donna questa pelliccia da donna però venne requisita da pochiesa maresciallo pochiesa il quale poi si seppe ne fece dono a una prostituta sua amica i fascisti non ebbero non ebbero alcuna pietà quel giorno e tutto ciò che non poteva essere trasportato per esempio i mobili venne sfasciato a colpi di scuola la popolazione fu costretta a uscire dalle case e fu riunita nella piazzetta davanti alla chiesa di san rocco il maggiore guerra salì i tre gradini che ci sono davanti alla chiesa e parlò alla popolazione che era circondata dai fascisti ed era terrorizzata per quello che stava succedendo tutto intorno e parlò contro i partigiani denunciò i partigiani denunciò chi tradiva il file il fascismo chi tradiva la repubblica di salò e con riferimento specifico a forbice e piccolo disse che loro non sarebbero più stati visti da quel momento in avanti una minaccia neppure tanto larvata perché quando il gruppo di militi lasciò ron per rientrare a valdoppiadele lungo una stradina che parte si diparte dalla chiesa e tuttora va verso sinistra uscendo dalla chiesa la strada molto stretta percorse un centinaio di metri quando furono fuori vista dalla gente che ancora era in piazza i due forbice e piccolo furono abbattuti a colpi di fucile faccio notare un particolare che i due uomini erano stati legati con le mani dietro la schiena ed erano circondati dei fascisti si trovavano a percorrere una strada estremamente stretta da una parte delle case dall'altra dall'altra parte un'alta recensione tuttavia per giustificare un'uccisione brutale senza alcuna spiegazione per il momento logica soprattutto senza che ci fosse stato un giudizio preliminare e tenendo conto anche del fatto che si trattava di due iscritti al partito fascista la cosa era estremamente grave quindi migliorati che rappresenta i fatti e il maggiore guerra che dirigeva tutta la situazione non trovarono di meglio che scrivere un rapporto nel quale attribuirono quell'uccisione a un tentativo di fuga delle due vittime frattanto boschiero e brunelli che erano come dicevo imprigionati a valdoviadren furono trasferiti a treviso furono trasferiti a treviso e la loro sorte fu legata a una a una circostanza che era per loro completamente estranea che cos'era successo era successo che il 3 agosto il comandante del 29esimo comando militare provinciale di treviso ovvero sia il comandante di tutte le truppe dell'esercito di salò di treviso che era il colonnello giorgio milazzo classe 1893 abitava a conegliano quel giorno come tutti i giorni un autista era andato a prelevarlo a conegliano e l'aveva portato e l'aveva portato a lo stava portando a treviso passando ponte dell'apriula del paese dell'apriula dei partigiani saltarono fuori dal lato della strada spararono contro la macchina ferendo ma leggermente sia l'autista che il colonnello milazzo non appena i due giunsero a treviso la sede del comando dell'esercito da treviso partì immediatamente una spedizione punitiva bisognava vendicare chi aveva usato colpire sia pure leggermente pensate alla ferita a un dito ma bisognava colpirlo a tutti i costi partì partirono due camion che si diressero verso il ponte dell'apriula e i fascisti dell'esercito della della rsi si incontrarono con i brigattisti neri che provenivano da conegliano e cominciarono a cercare gli attentatori e quando non li trovarono sulla base di un elenco che possedevano degli antifascisti di quella zona cominciarono a ricercarli nei dintorni e non trovandoli si diressero sulla base appunto di quel foglio in un'osteria osteria pozzi a sernaglia della battaglia che era un luogo noto di ritrovo di partigiani ebbene in quel luogo arrestarono la famiglia e anche arrestarono un giovane certo dino deboni il quale alla perquisizione risultò possedere due proiettili non un'arma due proiettili di pistola tanto bastò perché fosse portato nel retro dell'osteria e ucciso a colpi di pistola e lasciato lì a morire il giorno 4 di agosto quattro persone che erano state arrestate nel corso di quel raid fascista furono processati da un tribunale militare straordinario convocato dal colonnello bilazzo appositamente per vendicare quello l'affronto che gli era stato dato e per giudicare quelli che erano stati arrestati anche se non l'accentravano con l'attentato processo si svolse al teatro accademia di conegliano e si concluse brevemente con una condanna a morte di quattro giovani che la sera stessa furono fucilati sulle rive del piave all'altezza del ponte della priola ma milazzo non era contento perché c'erano altri due prigionieri poschiero e brunelli che erano a sua disposizione e che risultavano partigiani e la sua vendetta anche se quei ragazzi non la centravano con l'attentato che gli era stato fatto tanta maggior ragione perché in quel momento in cui sparavano lui essi si trovavano forse già arrestati a nord di valdobiadene volle che anch'essi passassero sotto le forche caudine del tribunale militare straordinario che fu convocato il giorno 5 di agosto stavolta a tribuna presso il tribunale di treviso il risultato fu identico cioè i due furono condannati a morte l'unica differenza rispetto agli altri quattro che gli avevano preceduti fu che essi presentarono perlomeno ebbero la possibilità di presentare una domanda di grazia questa domanda di grazia rallentò l'iter burocratico nel frattempo forse suppressioni esterne di amici di qualcuno alto locato non si sa ci fu un intervento di tedeschi quali dissero che volevano disporre di quei due giovani per mandarli al lavoro obbligatorio in germania si trovò il modo di farli spostare a venezia perché si riteneva che entrando in un'altra provincia sarebbero sfuggiti alle grinfie del colonnello milazzo ma non ci fu nulla da fare quell'ufficiale era intenzionato a vendicarsi a tutti i costi riuscì a ottenere che i due ragazzi fossero trasferiti nuovamente da venezia a treviso e l'esecuzione che era stata sospesa alla fine fu realizzata e questo avvenne il 3 ottobre del 44 alle ore 6 del mattino vi lascio immaginare soltanto il periodo che questi due giovani furono costretti a vivere dall'agosto del 44 dal 5 agosto 44 nell'attesa spasmodica di questo andi rivieri di queste notizie che giungevano alle volte positive alle volte negative la speranza che si nutrino di calarsela e invece non riuscirono a farcela vi posso soltanto vi posso soltanto in conclusione raccontare un particolare conclusivo migliorati il capitano migliorati che poi aveva fatto carriera era diventato maggiore era stato trasferito in Piemonte e lì con la fine della guerra era stato arrestato arrivò la notizia anche nel trevisiano del processo che si faceva a loro carico a carico suo e dei suoi pochiesa dei suoi uomini pochiesa tra parentesi fu poi giudicato a treviso ma quella è un'altra storia ebbene il farmacista cesare zucchetto che era un membro del comitato liberazione nazionale valdoppiadene il 29 settembre in occasione della cerimonia di esequie dei due poschiero brunelli che erano stati traslati per essere seppelliti a valdoppiadene scrisse una denuncia alla corte del sese straordinaria di alessandria dove era imputato dove stava per essere giudicato migliorati e disse che era opportuno che non si dimenticasse nel giudicare quell'uomo non si dimenticassero tutte le malefatti che gli aveva commesso nel trevisiano in particolare nell'area di di valdoppiadene e disse proprio oggi sono stati i funerali di due giovani innocenti arrestati da lui poi deportati a treviso dove dopo due mesi di sofferenze sono stati fucilati e questa notizia il farmacista zucchetto la concluse con una frase significativa la popolazione vuole giustizia sono delle parole significative specie perché pronunciate da un componente del cln che era impegnato con tutto se stesso non per fare vendetta bensì per ottenere giustizia e lo sottolineo ottenere giustizia dopo tanti anni di dittatura si volevano gettare così finalmente le basi di un nuovo stato democratico